cari amici di total photoshop buongiorno e ben ritrovati sono massimo di aprono store e anche oggi sono con arianna a casa sua per continuare a fare degli scatti per arricchire il suo book come abbiamo visto nei video precedenti è semplice fare degli scatti di qualità professionale anche in una normale abitazione abbiamo già visto come utilizzare gli illuminatori professionali elinchrom i delight rx one che in realtà sono gli entry level della famiglia elinchrom con dei lighting setup con ombrellini ombrellini traslucidi ombrellini riflettenti quest'oggi introdurremo l'utilizzo del softbox possiamo vederlo già già installato ci dà una luce molto morbida come quella degli ombrelli ma più direzionale più controllata pur non essendo immediato come l'ombrello è comunque di facile montaggio come come potete vedere in queste immagini lo si può togliere dalla confezione e mettere in azione nel giro di pochissimi minuti ok arianna faremo di nuovo degli scatti spostando la nostra sorgente di luce il nostro flash abbiamo il softbox ci darà la possibilità di direzionare meglio la luce su di te rispetto all'ombrello che la diffondeva un po anche nell'ambiente faremo una prima serie di immagini posizionandolo frontalmente quasi come se fosse il flash messo sulla macchina fotografica poi lo sposteremo di lato e infine quasi quasi dietro di te per fare una sorta di controluce per rifare la rim light che già avevamo fatto con gli ombrelli ma in modo ancora più controllato sei pronta prontissima cominciamo ecco in questo caso stiamo lavorando col delighter x1 praticamente al minimo della sua potenza quindi veramente una luce molto molto bassa ma comunque in grado di sovrastare la luce ambiente per poter avere totale controllo sull'illuminazione oltretutto vogliamo cominciare a fare degli scatti con un diaframma molto aperto per avere un bel bouquet un bello sfocato sui ritratti che faremo ad arianna e utilizzeremo un 85 mm quindi un classico tele da ritratto per poter fare un taglio molto deciso sul bellissimo viso di arianna ecco possiamo cominciare a vedere questi primi scatti vedi che è una luce che ti stacca comunque dallo sfondo pur essendo quasi frontale mantiene una certa tridimensionalità riesce a disegnare comunque delle ombre sotto sotto il mento sul collo sul braccio e tra l'altro una luce molto adatta qualora dovessimo far vedere il capo che indossi cioè se dovessimo fare una foto di moda questa potrebbe essere una luce molto descrittiva per far vedere bene le caratteristiche del capo ecco proviamo ora a spostare il soft box più lateralmente per andare a costruire le ombre ancora in modo più più netto ed evidente ricordiamo che i flash da studio come di lighter x1 hanno anche una lampada pilota quindi potrei accenderla e cominciare a vedere ancora prima di scattare l'effetto però oggi lo faremo direttamente scattando ecco io ho cercato di mantenere inalterata la distanza fra il soggetto quindi fra arianna e il flash di conseguenza non dovrò neanche cambiare l'esposizione ricordiamo che io posso spostare il mio punto di ripresa posso allontanarmi l'importante per non variare l'esposizione che non cambi la distanza fra il flash e il soggetto arianna sei pronta eccoci possiamo vedere questi scatti vedi che abbiamo sicuramente una costruzione diversa della delle ombre in questo caso tu giustamente guardavi guardavi la luce quindi guardavi la sorgente luminosa abbiamo questo effetto molto molto beauty questa è molto molto carina se vogliamo in questo caso diamo sicuramente più importanza a te come soggetto che non al capo quindi sicuramente più una foto per il ritratto o per il viso che non per il capo indossato proviamo a spostare sul retro il nostro softbox per andare a costruire una luce di silhouette una rim light in questo caso per andare ad annullare totalmente la luce ambiente e costruire solamente il profilo o quasi di arianna andremo a chiudere il diaframma della macchina quindi questi scatti li abbiamo fatti fra f2.8 e f4 proviamo a chiudere a 5.6 ecco in questo caso guarda la sorgente luminosa perché vogliamo riprendere il tuo profilo ecco vediamo un po' il risultato come vedi lo sfondo è diventato nero sembri scattata in una notte buia tempestosa abbiamo solamente un'illuminazione molto molto d'effetto sul tuo profilo verso il lato rivolto alla sorgente luminosa che sono immagini sicuramente meno descrittive ma molto molto d'effetto molto emozionali quindi abbiamo visto ancora una volta come giocando con un solo punto luce in uno spazio come quello che tutti quanti a casa abbiamo quindi di 3 metri per 3 o poco più con la nostra fotocamera e una vicina di casa o un'amica carina possiamo comunque ottenere diversi effetti semplicemente giocando a cambiare la posizione cambiare le potenze del flash e investendo un po' di tempo il kit di light come abbiamo già visto contiene due punti luce quindi nel prossimo video vedremo come utilizzare due flash con due softbox ancora a casa di Arianna per aggiornare ed arricchire il suo book grazie a tutti, arrivederci ciao 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 ciao